Eccoci ancora qua al Museo del Vino della Cantina Zeni. Oggi si apre una nuova stagione, che siamo certi non mancherà di portarci belle emozioni, sorrisi, dialoghi e tanti confronti. I nostri visitatori sono sempre molto più attenti e curiosi verso il mondo del vino, i suoi prodotti e la sua storia. Siamo sempre qui per raccontarci, per presentare i nostri vini e veicolare la nostra terra. Al punto vendita per Pasqua, i nostri visitatori potranno degustare anche la nuova annata del nostro Amarone di Punta, l'Amarone Nino Zeni, annata 2005. Un Amarone con la A maiuscola, che dopo l'annata 2000, oggi viene proposto in un'altra annata eccezionale, il 2005.